Ferreri, riesci a riconoscere questa struttura che ha fatto l'assistente segreto numero 2? Eh, sì, mi sembra qualcosa di già visto, Steph, sì Meno male, meno male, che cos'è, lo vuoi dire? È la villa dei superenoi di Fortnite! Esattamente! È molto simile, anche l'ingresso è totalmente uguale È tutto uguale, anche i giardini è tutto uguale, l'ha fatto proprio bene Era molto, molto, molto riconosciuto Allora, qua c'è il nostro equipaggiamento, non so bene che cosa ci servirà Ma considerando che un equipaggiamento da combattimento, nulla di buono Nulla di buono, ma con l'assistente segreto numero 2 poche volte c'è qualcosa di buono, eh Cioè, non ci mette mai una mappa con caramelle e animali carini e tutto cose belline No, c'è sempre qualcosa da combattere, sempre cose brutte, sempre cose difficili Oh, è davvero uguale Ah, stavo guardando anche i giardini in questo momento, è davvero identica Se ci fosse un bel fucile, sarebbe ancora meglio Esatto E il retro? Ok, si vada lì Che dici, entriamo e vediamo che c'è? Dai, vediamo, così controlliamo anche come è fatta dentro È addirittura arredata Oh, ma questa qua ce la conquistiamo come nuova casa Eh sì Vabbè, però No, Ferre, Ferre, Ferre Non l'ho capito, Steph, scusa Tranquilla Che ci fa lì dentro? Ma che ne so, ma che ne so Pure un ragno qua, vai via Ok, qua c'è soltanto una cameretta Ferre L'hai visti? Ah, no Stavo uccidendo il ragno e non li ho visti Ci posso entrare? No, peccato, peccato Bellissimo Qui c'è il mare, ok E per ora, dai, non mi sembra per ora un video di quelli pericolosi Eh sì, Steph, ricordati che è pur sempre una spada in diamante e un'armatura in iron Quindi Ho capito, ma abbiamo trovato un creeper e uno spider Servirà per quello C'è uno scheletro, ma è pieno di mostri qui dentro Può fare anche gli scare jump, dai Eh cavolo Su, un po' di coraggio Se mi metti zava, se mi metti zava Praticamente è il colore della vasca da bagno Quindi all'inizio non l'avevo notato Questo è il bagno, capisci? Ok Fammi lavare, sta festeria Allora, Ferre Qua devo dire che c'è qualcosa di un po' più strano Ma dove sei finito tu? Ancora più in alto Ah, io stavo guardando ancora tutte le stanze Qui è un po' più strano Non so cosa siano Non si muovono Non mi attaccano Ma non so che cosa siano Ok Io li ho premuti Eh, non lo so Boh Nulla di che Molto strani Scendiamo? Sì Ti rendi conto cosa manca, vero? La conosci a sufficienza questa casa per saperlo, no? Il seminterrato, no? Esatto Sì, lo so che manca Però Ah, ha fatto pure che è un passaggio segreto Fammi vedere Sembrerebbe Vediamo Ancora niente Ancora niente Confermi? Sta proprio di sì Parca miseria però No Sì, no Boh, non lo so Fere Che dici? Non lo so, anche io ho il dubbio Mi sta venendo il dubbio Non lo so, forse no Vediamo però se spacchiamo anche uno di legno Ok No, Steph Non è una ceppa Aspetta No, no No, 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 no Fere, la da questo latto Bravi Perché non guardiamo? Bravi Abbiamo distrutto metà casa Due ore a bucare Esatto Come sempre Uh Eh, c'è di nuovo Creeper E c'è di nuovo un creeper Maledetto Allora, il creeper ci penso io Ok, ma non sto vedendo niente di buono Già Fare così esplode Non esplode Fa in tempo ucciderlo Che la spade di diamante Allora, ho visto chiaramente Dei supereroi Allora, Flash Deadpool Capitano America Ant-Man Poi Qua credo sia Arro Ma di spalle non sono sicurissimo Ah, c'è pure Ci sono pure i nomi Pantera Nera Zoom Quindi il cattivo di Flash E poi abbiamo Batman Ok Perché hanno tutti delle scritte rosse Invece che delle scritte verdi Carine e simpatiche Perché ci vogliono attaccare Sono maledetti Ma devo entrare qui dentro Non lo so No, è chiuso Destro No C'è qualcosa di strano, Steph Flash Ciao Oh, porca miseria Era una porta Invisibile, tipo Ma Come si dovrebbe aprire? Vieni fuori Ecco Ce l'avevi fatta Qua è il tasto, allora Ok Sì, attacco Per, 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 per È fortissimo Come è fortissimo? Sì, è fortissimo Cavolo, si è fortissimo Ho già mangiato una mela d'oro Ok Flash, ti devi calmare Cavolo, me lo aspetto un po' più scarso Tra quelli che abbiamo scelto Dovresti essere uno dei più scarsi No, vabbè, già è forte Beh, però Cavolo È veloce quanto lui quasi, eh Perché corre parecchio, però Non lo tiri addosso Non muore, non muore Ok Ok Uh 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 Avevi ragione, Steph Vero? Allora Uno, due Togliamo tutto questo Uno, due Tre, quattro Ok Oh Eccomi Anche tu ce l'avevi, sì? Sì Completa? Sì Allora, ti ricorditassi? Aspetta, questo è svenuto Tornerà in vita Ah Sì, tornerà in vita Beh, vabbè Lasciamo la porta chiusa, ok? Esatto Eh, i tasti, non lo so, tipo N N, 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 N Sì, me lo ricordo Carino Un po' incasinato dentro la stanza È un po' difficile da vedere Ehi, Fere Ehi, Fere Ti vedo Ciao, Fere Ciao, Fere Ce l'ha pure il testo per andare al rallentatore Però non me lo ricordo Eh, forse M Sì Eccolo di nuovo Bellissimo Bellissimo Perché secondo me Che memoria che ho, cavolo Mi ricordavo tutto Quindi N ed M Io proveri a sfruttarlo per fightare il secondo mob Il secondo supereroe Tipo, affrontiamo Ant-Man Ok Il tosto è sempre lo stesso, Steph Per aprire Ok Non toccare altro, però Ok, così è aperto Tipo ta e ta Aspetta, a rallenti A rallentatore Esatto, esatto, esatto Però siamo lentissimi anche noi E questo pesta, Steph Guardalo Secondo me però riusciamo a sfruttarlo Per non farci colpire Questa è la mia teoria Dici Vedi Non lo so, Steph Non lo so A me Ah no, mi ha dato un ciaffone Eh sì, un po' te li dà lo stesso Ah, però esplodo Questo evidentemente leviamo Ah Ok Eh, l'ho preoccupato Però questo È un po' scarso Diciamocelo Allora Ho tutto Perché mi sa che ci siamo presi Un po' di pizze vicenda E io ho dei pantaloni E io ho questi e questi Ok Ok Perfetto Perfetto Mi manca Ah no, eccolo, eccolo, eccolo Proviamo anche lui Ok Che tasto era? Sempre N Ok Bellissimo Signor Capitano America Aspetta, devo arrivare al tasto Ecco, ha fatto Lo vuoi combattere così? Secondo me sì Guardalo È in difficoltà Eh sì, non riesci a pigliarci Siamo troppo piccoli Non riesci a prenderci Lo so Ok Esplodo Ma solo flash era felicit Era Forse sai cos'è? Sono troppo forti queste armature Esatto Quello Esatto, secondo me il concetto è quello Allora, ho degli stivali che mi avanzano Fammi tornare normale Io ho uno di questo che mi avanza Ecco, ho fatto Perfetto Perfetto Allora, a me Avanza Fammi vedere Questa Questi L'hai ripresa tu? Sì Davvero? Ah, ecco Eh Boh, no Tieni Sono gli stivali Sì Non si capisce più nulla Troppe cose Allora, l'unico pezzo che mi mancava Non ci capivo più niente Anche io Poi sono piena di armature Ormai devi inventare Non ci sto più a capire nulla Allora, ma cosa fa lui però in effetti? Non mi ricordo Forse penso che lanci lo scudo Scudo E con che tasto? No, ho aperto cose strane Oddio, anche io Eh, non me li ricordo tutti Aspetta Però se guardi Ok Li puoi trovare Secondo me sai che non Lo scudo lo devi avere come arma E che quindi Non avendo l'arma Sì Secondo me non va Vabbè, dai Ci teniamo l'armatura Vero? Ok Allora Teoricamente dovremmo essere comunque for tutti Perché lui è super for tutto Beh, suppongo di sì Chi ci affrontiamo? Forse io andrei di Arrow Ok, vai Vieni qua Arrow Uuuuh Attacca a distanza Neanche esce fuori Allora Apro e sto qua Così è obbligato a uscire fuori Ok Vieni qua Non prendertela con me Alla spalla Fare occhio perché tira frecce strane Avvelenate mi sembrano Vero? Sì Uh, puoi saltare tantissimo Uh, bello Oh, non andai in casa però che fai un disastro lì Vieni qua Vieni qua Vieni via Vieni via Seguimi Così qua non ci può sparare Ok Ci sta seguendo Mi ho visto Sì Mamma mia Mi si è lanciato addosso Maledetto Maledetto È proprio Arrow questo Dai su Ma ci darà anche l'arco Sì che ci dà anche l'arco Sì che ci dà anche l'arco Allora mi piace molto qua Mi piace molto Allora tu cosa tu ti hai preso? Il cappello e la chest Allora Non si capisce più nulla No assolutamente Io non capisco più Io poi ho un arco Ma non ho delle frecce Tieni l'arco Allora l'arco ce l'ho anche io Quindi ce l'ho già Tieni le frecce Ok Eh Io non credo di avere la chest E Ah ce n'era solo una È l'elmo Vabbè dai prendila tu Tieni No ma è strano Oh vabbè Rimango capitano America Con l'arco di arco Vabbè Non è molto bello No va bene Perché guardatemi Sì non c'è da nessuna parte Quindi per favore Allora E se tu rimanessi capitano America Esatto Dai ok E picchi a spada Vai E io ne metto di picchi a distanza Ci sta Voglio killare pantera nera Non mi è mai piaciuta pantera nera Ok Aspetta fare Stai combinando Non so come si caricano le frecce Vieni No Ferre non so come caricarle E ormai Steph è iniziato Non lo so Non basta premere come con l'arco normale No Non lo so Corro in tondo Steph Ferre Ma no dai Steph Sono Arrow che non so usare le frecce E l'ho notato Come? Ma neanche con R Non riesce a ricaricare? No Scusa fammi vedere A te? No Non lo so Evidentemente si carica in un modo particolare Ma dai Ma siamo degli eroi terribili Ma abbiamo spaccato tutto Sì è già la seconda volta Che succede No no cavolo Lo so Aspetta No lui non può uscire Quindi va bene Stiamo Non è un grosso problema Ecco qua Allora io pantera nera ti giuro Non mi piace proprio Quindi manco voglio il suo vestito Vieni qua te Sì 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 Vieni qua Deadpool Su Uh bella la sua arma La sua arma la voglio infatti Bellissima È quello che ho pensato anche io Dai fai da bravo Oh lui è forzutto eh Lui è forzutto occhio Lui è assolutamente Eh sì fa male Ti prendo alle spalle però Come la metti? Come la metti? Tu la tua sparaccia Prima o poi ti buttiamo giù Eh infatti Ok Ma c'era la spara? Eh tiene una in più Eh non lo so Penso di no Non l'ho vista io perlomeno Tiene un po' io di stivali Mi manca il No La testa L'elmo step Ne uno in più Prendi gli stivali? Hai ripreso tutto ovviamente Ma io ho la sua spada Eh lo so pure io Uh però si salta eh Però si salta Guardate quanto è agile Mi sa che corre anche un pochino più veloce Allora chi ci manca? Sì 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 Ci manca mi sa Batman E Zoom Eh mi sa proprio di sì Gli altri abbiamo fatti tutti Sai che ti dico? Li facciamo insieme? Esatto Dai ci sto Ahia mi ha messo all'angolo però Ok vai Forza Zoom vieni qua Oh Oh Ti muovi? Ok tu fai Zoom Io ho Batman Ok Più o meno Quelli che ci arrivano addosso Ah ah Combatto saltando Zoom Non puoi battermi Magari sei anche veloce Ma io saltello Come le gazzelle Sono fortissimi Steph Lo so è stata una scementa È fortissimo Io ho vinto Ok Mi puoi dare una mano magari eh Sta roba non muore Eh vabbè ci sta che Batman sia fortutto Ma molto forte Ma molto Ok Ok Uff andata Porca miseria Che fatica Un po' arrabbiatini Sti supereroi nella loro villa Un po' troppo Beh siamo andati noi a disturbarli Ci sta Sinceramente ci sta Io non credo di avere minimamente l'inventario Per diventare Batman Eh io non ho tipo gli stivali Quali sono questi? Questi Ah che bellina che sei da Batman Eh lo so Ho anche il mantello Fai ridere Allora aspetta che butto un po' di roba No vabbè io non voglio essere Batman Rimani saluto Batman dai Bellina Ciao Ciao Come stai? Gli occhi sempre sbagliati ovviamente Ma perché Lo sappiamo che è qualche problema con gli occhi Eh abbiamo fatto tutti? Sì Vero? Abbiamo massacrati tutti eh Supereroi Fate un po' schifo eh Fate un po' schifo Sinceramente ve lo dico proprio In modo gentile Perché non voglio essere comunque una persona crudele Avete fatto un po' schifo Vi abbiamo massacrato E sta anche piovendo Molto bene Ah sei già uscito fuori? Sì 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 Io ero ancora qui ad ammirare Tutti gli ero No vabbè Ormai la villa è nostra Beh ovvio Cioè Li lasciamo chiusi nello scantinato E ci teniamo la villa Esatto Tanto la porta è invisibile Non so manco come sistemarsela Quindi non possono farci nulla La villetta è nostra Non so bene cosa Anzi sai che forse so cosa fare con questo? Che cosa? Tipo così Sì Ah beh sì è vero È vero Hai ragione Così almeno ho tutto lì Comodo comodo Anche se non ritrovo le cose Perché è tutto incasinato Però è un'ottima idea Un po' questa Io voglio questa qua di Ant-Man Che mi è piaciuta molto A me quella di Ant-Man piace Io qualcuna l'ho anche persa Dove sono tutte le cose? Eh lo so è normale Allora ho sistemato Flash Ho sistemato Ant-Man Tu Capitano America l'hai fatto? Eccoli Sì ho trovato finalmente gli stivali Perfetto E mancano soltanto gli stivali di Batman Mi pare Ah no anche i gambali Ce li ho Ce li ho Ma ce li ho addosso No Batman ok mi avanzano Eh immaginavo perché c'avevi tu al posto mio Vabbè no dai Ah no Trovati Ho preso tutto io Perfetto Ok vedi Così abbiamo finito di conquistarci la casa Eh già In ogni caso ci fermiamo così Per fortuna non è stato troppo complicato batterli Anche se comunque Li abbiamo dovuti menare parecchio Speriamo che il video vi sia piaciuto Speriamo che la casa che ha costruito Assistente segreto numero 2 Che spero che ormai abbia il suo nome Che qualcuno l'abbia nominato Ce l'abbia fatta Ha costruito davvero una fantastica casa Qua sotto come sempre Componendo altri video Iscriviti al canale Campiondine E ci vediamo in un prossimo video Ciao ciao